Si chiama InfoFragili ed è il numero gratuito messo a disposizione dall'Asla Toscana Sud-Est a tutte le persone con patologie e i loro familiari, che consente di avere opportune informazioni per aderire alla campagna vaccinale. Per accedere al servizio basta comporre il numero telefonico gratuito 843 25 25 e ben 20 operatori sapranno indirizzare l'utente. Il servizio è attivo da lunedì al venerdì dalle 8 di mattina alle 20 di sera. Questa mattina, primo giorno, c'è stata subito una grande adesione con gli operatori che hanno ricevuto circa 2000 telefonate all'ora. Il suggerimento dunque per evitare prevedibili attese, soprattutto in questa fase iniziale, è quello di utilizzare le fasce orarie meno affollate, ad esempio il secondo pomeriggio. Le vaccinazioni per i soggetti estremamente fragili avvengono solo con Siero, Moderna o Pfizer. In provincia di Arezzo sono circa 10.000 ultra fragili, anche se questo è un numero provvisorio e sottostimato. Si tratta infatti di quelli che hanno voluto o potuto fare la preadesione, dunque la fascia di popolazione interessata è sicuramente ben più alta.